La signora fa, ma tu sei Johnny? Si, ma quel Johnny, il vero Johnny, si, sono io. Perché c'è un ragazzo che ti assomiglia a due. Ok? L'altro ragazzo che il segno si chiama The Country Fever, ok? È un po' complessa, è un intermedio, ok? Però, dico anche se magari non ce la senti, provateci, ok? Se vuoi vedere che voi non ce la fate, potete comunque chiedere al vostro insegnante se vuole e riprendere il corso, se non piace, se gli fa piacere, ok? Allora, io la mostro. Ok, vi mostro il primo pezzo della musica, così già vedete un po' la... com'è il ballo, il mostro diventato, vi prego, e poi la comproiamo in barattina, vai. Faccio la leva, vedi? Stiamo avanti. Faccio il bar. Introduzione lunga. Sono 40 secondi di violini, potete prendere il caffè senza funzionarmi la lunga, non l'ho mai fatta io. Potete anche mandarlo un po' avanti, eh? Poi è bella, è un momento. Poi è bella. Un momento in cui si non ha in un momento in cui è Fai un paolo, non l'ho mai fatta io, non è un paolo, non è un paolo, non è un paolo, non è un paolo, Grazie per la visione! Grazie per la visione! E l'angolo è in fondo a destra, prendete quella con noi, 7, 8, step, log, step, step, log, step, passo, giro, 1, 3, step, log, step, step, log, step, passo, giro, vai di wave! Un e due, e quattro, e cin, e set, vai con il suo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 7, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buon appetito! Ancora A Ma con il botte B Ate B Ok set Bingo Bingo stop K Oh, 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 oh. Ah, tu, sei, tu, sei, tu. Bacchetta. Bacchetta. Bonte. laterale laterale stop b ok, che c'è per il tuo ancora b ok, che c'è non so che non vuole parte come la idea per te parte a ancora ancora ora ancora ora 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 c'è per te per te ora ancora per te 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 per te